in realtà potevo rispondere direttamente a questa email tuttavia so che alcuni di voi cercano più o meno le stesse risposte quindi in maniera rapida leggiamo insieme il messaggio email di kevin ciao daniel spero che tu stia bene vorrei solo farti sapere che mi sto trovando bene con la gmat fx questa settimana per la prima volta in assoluto ho fatto un prelievo di 450 sterline ti faccio le mie congratulazioni kevin il risultato è decisamente importante tenuto conto che non credo tu abbia depositato grandi cifre 450 sterline sono un bel traguardo perché sei già a mercato con i soldi del broker quindi posso solo giudicare grandioso questo evento il vostro obiettivo non è solo fare soldi ma farli con quelli del mercato affinché voci come drawdown performance percentuale diventino irrilevanti perché state lavorando sostanzialmente con demo che pagano stipendi quando e come voi desiderate quindi ottimo lavoro kevin passiamo alle parti successive dell'email ho rivisto le lezioni ho guardato il break even point ho difficoltà nel capire come nella pratica possa essere sfruttato capisco se un'operazione va contro e si raddoppia il punto di pareggio sta nel mezzo ma in realtà quella parte in cui spiego come risalire al break even point che se non sbaglio nel programma nuovi paradigmi finanziari in gmat fx academy vi mostro come calcolare il break even point ed è chiaro che lo mostro attraverso un raddoppio perché è molto più semplice per me spiegarlo in quella forma tuttavia questo processo di calcolo per esalire il break even point si allaccia all'argomento ma per esposizione del programma forex da zero io non affermo mai in quei programmi didattici che bisogna raddoppiare quando si affronta uno scenario avverso di mercato anche perché per recuperare una perdita esistono tecniche molto più performanti rispetto al classico raddoppio di rispetto al classico raddoppio di rispetto al dove si creano squilibri nell'esposizione il calcolo del break even point serve nel momento in cui voi siete esposti su più cross in modo tale che attraverso le formule che vi ho spiegato e vi ho dato voi riusciate ad individuare i livelli di prezzo e relativo rapporto di cambio in cui voi siete realmente a mercato un esempio lo trovate in questo video che pubblicai un paio di anni fa in realtà in quel video io sono esposto solo su due tassi di cambio non su tutti quelli che vedete il fatto è che molti quando aprono negoziazioni ingenuamente pensano di essere esposti sui rapporti di cambio che vedono nella tabella ordini in realtà non è così sulla base di concetti logici spiegati in mappa esposizione relative formule alla fine riesci a capire qual è il rapporto di cambio che determina l'andamento del tuo balance da lì in poi puoi gestire il tuo break even point quindi il fatto di essere in grado di spostare il tuo prezzo medio di carico ti fa capire che tu puoi rendere dinamico ed adattabile il tuo livello di ingresso sfruttando la tendenza del mercato che stai affrontando e questo ti permette di avvicinare o allontanare in determinate occasioni il tuo punto di pareggio in funzione alla tendenza del mercato quindi la tua esposizione non è più fissa ma diventa dinamica in funzione al movimento di mercato probabilmente questo argomento lo approfondirò in un altro programma didattico tempo permettendo ma in alcuni esempi in cui si effettuano operazioni opposte ad esempio dollaro yen buy e sell sembra che l'area di profitto si allontani ulteriormente dall'entrata in altre parole il prezzo dovrà muoversi molto di più prima di iniziare a trarre profitto questo dipende sostanzialmente dalla leva applicata nelle due operazioni dal profitto perdita generato nel momento in cui ti esponi nella successiva negoziazione se entro con lo stesso a montare entrambe le negoziazioni si annullano eccetto i costi di swap tuttavia la differenza del volume di ingresso può determinare lo spostamento del berkeven point e questo può essere utile quando si applicano strategie di breve e medio lungo termine stop and reverse oppure un'idea di applicazione può essere la classica situazione in cui si desidera incassare parte del profitto generato da un'operazione senza necessariamente applicare una chiusura parziale o totale della negoziazione stessa quindi mantengo l'operazione in profitto a favore di mercato individuo il temporaneo livello chiave di scarico e con i pesi adatto la mia esposizione affinché io mi ritrovi esposto a favore dell'area di inversione mercato questo mi permette di incassare parte dei profitti e qualora si verifichi un cambio scenario imprevisto essere già a mercato sui prezzi migliori se penso che l'euro yen abbia raggiunto il limite superiore di 142.60 e inizia a muoversi verso il basso e si trova 10 pip sotto posso fare due operazioni per mettere il mio berkeven point sell sopra 142.60 ovvio che lo puoi fare come detto precedentemente spiegato nei miei programmi didattici tu puoi spostare il tuo livello di ingresso su qualsiasi prezzo tu voglia persino sui prezzi che il mercato non ha ancora toccato o non toccherà mai ho pubblicato tutte le formule puoi fare quello che vuoi attraverso il paradigma GMATFX puoi scegliere di seguire la tendenza di mercato attraverso lo studio e l'analisi della mappa a mercato oppure puoi anche evitare di focalizzarti sulla tendenza di mercato sfruttando la mappa esposizione quindi attraverso aperture calcolate che ti permettono di scegliere a quale prezzo posizionarti in quel caso puoi scegliere di rimanere in una posizione fissa quindi scegli il prezzo e rimani su quel prezzo e in scenari successivi spostarti oppure decidi di rendere il tuo prezzo di ingresso dinamico fin dall'inizio quindi che si sposta autonomamente in base all'andamento di mercato il cielo è il limite puoi fare quello che vuoi sul mercato le formule le hai e dalle domande che mi poni capisco che sei a buon punto queste sono le mail che a me piace leggere e condividere soprattutto